Caro Cinecittà, alla presente vostra espongo quanto segue primo, che ho scritto un film tutto della mia vita, da quando ero orfano fino al 56, avventura e duello, amore con forte tradimento, vendetta a carcere, esce con l'amnistia. Io potrei farlo anche come regista, accludo foto, io sono quello in mezzo. Secondo, se non c'è film per ora adatto mia persona, altezza 1,63, bicicletta, nuotare, carabina, prego pigliarmi anche per guardiano e magari scopare stabilimento. La vita qua è meglio non parlare.